Mister è brutto magari per un allenatore da dire, però io penso che forse ci sia anche della soddisfazione. Peccato per la sconfitta, però il Verona ha dimostrato carattere. Sì, ha dimostrato carattere e sono molto contento. Era la partita che dovevamo fare, sapevamo che giocavamo contro una squadra forte, però questo è lo spirito, secondo me, di partenza che ci può portare lontano. Soprattutto nel primo tempo l'Ella si è dimostrato di essere una squadra quadrata, compatta, praticamente preparata ad affrontare la Juventus. È venuta fuori, soprattutto nella prima frazione, la partita che aveva preparato? Ma sì, perché sapevamo loro com'erano. È una squadra con molta qualità, è normale, ci portavano bassi a difendere, però insomma sono contento. Purtroppo un rammarico è intanto il qualsubito, che è una costante della Juve, quelle palline attive lì lo sapevamo, però purtroppo è successo e dopo magari se facendo gol anche sul rigore mancavano 10-15 minuti, mi sembra la fine, insomma si poteva credere in qualcosa di più. Il Verona si porta al rammarico di un rigore fallito, ma sicuramente c'è anche oggi la consapevolezza, come è accaduto con l'Inter nella vittoria in amichevole la settimana scorsa, la consapevolezza di poter fare risultato anche in queste partite te la dà anche la Juventus oggi, questa grande prestazione, per la partita della settimana prossima con il San Gimignano. Assolutamente sì, adesso basta, non si pensa più alla Juve, si pensa al Florencia, è vero, abbiamo sbagliato un rigore, però quello che mi è piaciuto è proprio l'atteggiamento del dopo rigore sbagliato, cioè questa voglia di andare a rimediare l'errore e quello è importantissimo. Grazie a tutti.